Bentornati all'appuntamento sportivo più violento che ci sia, io sono Scream e io Fabio Cheresse! Ecco Fabio, sono già disorientato, cos'è questo ring? Dove sono i cabaddisti? Ma questo non è Shleck Caban di Scream, stiamo per assistere a uno scontro di chess boxing! Aspetta, io questi due li conosco? Esatto, sono due creatori di contenuti! Disguide's Toast e Point Crow, che ci fanno qui? Oh, iniziata! Ma stanno giocando a scacchi? Ma sì, la prima fase, quei bianchi gioca a Point Crow, quei neri disguide's Toast! Scusa, stiamo commentando un incontro di scacchi? Ma no, di chess boxing! E cosa cambia? Ma vedrai Scream, vedrai! Accidenti, il bianco subito punisce! Ma vai, spiegaci perché! Beh, il cavallo bianco ha forchettato re e torre! Ma c'è la regina nera! Sì, ma il cavallo è protetto dall'alfiere, il nero è messo male! Non mi fido, io non ci capisco molto! Davvero? E allora perché guardiamo questo... Ci siamo, ci siamo! Che succede? Lo mettono nei guantoni, ora parlano i pugni! Come scusa? E questo è il chess boxing, un round di scacchi e uno di box, si alternano! E come si vince? Ma per capò, abbandono dell'avversario, per capò del re avversario! Intendi per scacco matto? Musì, è uguale! Certo che sono proprio due pesi più, ma... Ma non importa il peso, lo importano le massate! E chi è il favorito? Ai guantoni Point Crow, la scacchiera di Shgued's Toast! Ma lo ha colpito sotto la cintura! Te l'ho detto che è avvantaggiato, comette anche le scorrettesse professionali! Fabio, questo non è lo slackabuddy, le scorrettezze non sono ammesse! Ma sì, un paio, senza esagerare, ci stanno sempre, si chiama agonismo! No, si chiama giocare sporco! Non ti facevo così politicamente corretto, scrim! Ok, round finito, ora si torna agli schiacchi! Ma è assurdo, cioè dopo aver preso i dati ammazzate! Il chessboxing è questo, lo sport più completo al mondo! Non era il nuoto! Ma il nuoto non ti serve il cervello! Mmm, non so, non mi convince molto sto chessboxing! Ma che fa, da scaccorre col cavallo? Ma che ne so, io sono qui per gli sberloni! E non ne approfitta! C'è la regina in traiettoria, sta regalando un pezzo! Ma sto calmo, scrim, hanno preso parecchie massate! Sì, ma sta giocando ad occhi chiusi! Perché non prende il cavallo? Perché è difeso dall'alfiere! Aspetta! Regina è in A4! La Brescia Padova! Ma no, casella A4! Se la sposta in D7 è scacco matto! Non l'ha vista! Cioè, poi in croo ha vinto! Ma speriamo di no, non si sono minati abbastanza! Ma che fa, regina è 8! Ah, aveva vinto! Ma non ci sto capendo molto, state sentire sempre una battaglia navale! 5, 4, 3, 2, 1... Ma grande, ci torna i guantoni! Questi due sono bravi nel pugilato tanto quanto negli scacchi! Ma non sono granché a menare le mani! Appunto! Sicuro Toast sia il peggiore coi guantoni? Ma mi devo ricredere, è una bella sleppa sulla nucca! Temo che quel colpo influirà sulle prestazioni sulla scacchiera! Se ci arrivano le scacchiere! La loro tecnica sarà da rivedere, ma la grinta c'è! Questo non si discute, ma si avvicina la parte noiosa! Dai, gli scacchi non sono noiosi! Lo preferisco le massente, ma andiamo avanti! Comincio a capire come funziona! Il timer in alto è quanto manca al prossimo round, mentre gli altri due indicano quanto hanno sull'orologio per giocare a scacchi! Ma almeno non c'è da aspettare troppo! Attenzione, altro errore di Point Crow! Ma tu scacco con la regina, dov'è l'errore? Il cavallo è indifeso, può mangiarlo con il re nero! Sta roba sarebbe vincente! Non so perché ti lamenti tanto, Fabio, hai proposto tu questo chessboxing! E comincio ad appassionarmi ci! Ma che fa? Allontana il re! O quel che vai lo deve fare proprio schifo! Sì, è tipo la seconda volta che si rifiuta di mangiarlo! No, questa partita mi sta facendo troppo male! Ho bella noia, lo so! Ma quale noia? Che bossa è? Ha regalato la regina al re! Sorprende coi guantoni! Se Toast resiste ancora un po' può finirlo sulla scacchiera senza problemi, ha troppo vantaggio! Ma sempre se poi in crew non lo butta giù prima, ricordiamolo! Questo è l'ultimo round di box! Ah, e se non vince nessuno? Ma si passa l'ultimo sulla scacchiera e poi i punti! Un po' nonsense ma carino, dai! Io toglierei gli scacchi! Una preferenza personale! Bravo Toast a evitare di farsi chiudere all'angolo! Un po' di delusione! Non c'è abbastanza cattiveria! Ma ricordiamo, è solo antagonismo sportivo! Ma certo, sono pugni in faccia in amicissia! E finisce dunque l'ultimo round con i guantoni, giusto? E purtroppo sì! Toast favoritissimo allora! E temo anch'io, non appliccio abbastanza pappagni sul muso per non riconoscere più i pezzi! Anche sulla scacchiera gioca male, ma il suo avversario non è da meno, e visto che ha appena perso la regina stupidamente... Oh, guarda, mi spiace di dirlo, ma mi manca lo slack buddy! Dai, è un bel gesto sportivo! Anche in Pakistan ci sono i gesti sportivi, gli sberlon! Semplificano il gioco e fanno bene! Non c'è molto tempo! Sì, ma il mero è messo davvero troppo meglio, non può perdere! Eccolo lì! Scacorre e torre in presa! Ma sì, lo stai asfaltando, cimbre! E se gioca bene potrebbe facilmente prendergli anche l'altra torre! Ma sei un ure, eccolo! No, è il vantaggio del nero in questa partita, solo questione di tempo! Non faccio notare che non ce n'è moltissimo! Non importa, è sufficiente! Va bene, ha deciso di smuovere un po' anche l'altra torre! Quindi ha vinto automaticamente! Ehm, no, può rischiare lo stallo, ma... Eccolo, scacco matto! This guy's toast, vince! Ma avrei preferito un K-O, ma va bene uguale! Impressioni sul match? Toast ha meritato di più, o se preferisci è quello che ha fatto non errori, pur avendone commessi molti! Uno scontro fra schiappe, insomma! Dai, hanno fatto del loro meglio! Interessante questo checkboxing, davvero! Ma non credo che lo rivedremo, non c'è abbastanza sione! Peccato, si accosta bene a faccia da schiaffi! Allora non rimane che salutare i nostri amici spettatori! Io sono Scream! E io Fabio Cresse! Buoni sberloni a tutti! Let's go ahead and do it right now! Your winner, by checkmate, by checkmate, disguised Toast! Let's hear you everyone, what an incredible fight, so back and forth, Toast coming out on top! Unbelievable!